Nel LED ongiunti acciaio, è possibile determinare la rigidezza iniziale SI lunga, INI secondo Eurocodice e AISC. Questo può essere fatto per le aste selezionate con riferimento alle forze interne N, M, Y e MZ. Nella scheda aste della finestra di dialogo di input del LED ongiunti acciaio, è possibile selezionare le forze interne desiderate utilizzando una casella di controllo. Sono possibili scelte multiple. Per queste forze interne, l'analisi di rigidezza viene eseguita con segno positivo e negativo.